Il piano strategico metropolitano sta per essere approvato e prevede interventi, confinanziamenti anche cospicui direttamente ai comuni sulla base di aree omogenee. Oggi ha partecipato a una riunione col sindaco metropolitano, qual è la sua opinione a proposito di questo progetto? Una notevole iniziativa da parte della città metropolitana, finalmente si inizia a ragionare su un modello di aria vasta e quindi apprendiamo con una manna dal cielo questa possibilità di avere finanziamenti in modo da poter contribuire allo sviluppo all'interno della provincia e anche alla città. Quindi noi veramente siamo entusiasti per questa iniziativa e finalmente possiamo dare respiro a delle iniziative che volevamo da tempo intraprendere sul territorio e grazie a questo finanziamento della città metropolitana finalmente possiamo portare a termine. Avete già in mente qualche iniziativa da finanziare con questi fondi che arriveranno? Sì, assolutamente. Noi abbiamo il Carnivale Savianese, ormai è un carnivale che praticamente attira centinaia di migliaia di visitatori e fa di Saviano un'attrattiva e un attrattore dal punto di vista dello sviluppo. Immaginate che sono delle macchine prodotte sul territorio attraverso maestranze che sono giovani del territorio, le maschere, i vestiti sono costruiti realizzati nel territorio e la possibilità di poter realizzare la cittadella del Carnevale che è da tempo che è sulla bocca di tutti che è urgente realizzarla per far sì che diventi una spinta e faccia sì che il Carnevale diventa volano ancora di più per una festa che già adesso è a livelli nazionali fra i dieci Carnevali più belli e vogliamo addirittura farla diventare il più bel Carnevale della Campania.